ciao a tutti eccomi qua vi prego lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale vi prego iscrivetevi al canale vi prometto che successivamente spacchetteremo calendari anche costosi vedi questo gioiellino che è parcheggiato qua chissà che cosa c'è vabbè sono arrivati quasi tutti insieme oggi vabbè è cascato da niente allora oggi andiamo a spacchetta oggi gli sto girando tutte e tre in sequenza sta cascando tutto il calendario sempre della douglas il calendario beauty quindi i tre calendari low cost vi ho detto che costano 39 95 se non sbaglio e questo è dedicato al beauty vediamo che cosa c'è dentro facciano gli spoiler a noi non interessa distruggeremo anche questo calendario ho passato la pinzetta di tanto che mi sono andata a pulire le mani faccio lo scorcio che serve lo scorci allora casella numero uno questo è il solito vizio di non guardare primo numero uno eccolo qua ecco ecco forse quando andiamo su questo tipo di prodotto vediamo se è sempre matti kiss quindi che bisogna fare sempre quello di poco fa matti kiss è un nude numero uno numero due dico e poi alla fine è bello questo colore però metterne due in due calendari scusate c'è la pinzetta di prima chissà se troveremo altre robe di questo colore spero di c'è altri pennelli pennellini allora che cos'è di nuovo al bergamotto era quello di prima non mi ricordo sì comunque è un dolce schiuma e però fa un profumo veramente pazzesco questo glielo dobbiamo e al bergamotto e ai sali minerali scusate ed è da 50 ml questo fa un odore veramente strepitoso insieme a questo che comunque ci sta se non fosse che abbiamo il doppione però forse ci andrà meglio dell'altra volta forse delle altre due volte numero tre eccolo sto prendendo confidenza no dai raga l'abbiamo trovato prima cioè io lo prendo perché ce l'ho qua cioè li sto spacchettando sono uguali quindi pensateci quando dovete acquistare il calendario prendete quello che vi è più utile numero tre numero quattro cioè tenete presente che in alcuni calendari ci sono delle ripetizioni questa è la cinque la numero quattro dove qua non vedo l'ora di spacchettare quello che è appena caduto quello lì ci darà delle gioie mi darà delle gioie allora questo è un due in uno top coat l'abbiamo trovato anche nel quello precedente io ho messo in un sacchetto però vi assicuro che c'è cioè non è che sono io sono uguali le ripetizioni no Douglas no le ripetizioni no vabbè che io avevo lo sconto però dico non è che tutte le persone hanno lo sconto quindi valutate raga quali acquistare allora questa è la numero quattro andiamo alla numero cinque che è qua un'altra pinzetta ragazzi no no un'altra pinzetta uguale cioè un'altra pinzetta uguale abbiamo trovato bello cinque andiamo alla numero sei Douglas così però ci sentiamo presa in giro numero sei dov'è la numero sei li devo fare in diretta così magari c'è qualcuno che mi suggerisce vedo la numero nove quasi quasi cioè ne approfitterei raga io non la vedo la numero sei dove è nascosta 15 16 eccolo ce l'ho qua sotto cioè vabbè facciamo questo tanto è un bambino no un'altra ripetizione il tonico l'abbiamo trovato nel se non sbaglio nel primo calendario il tonico ok beh qui faccio veloce ragazzi spacchettato il calendario mi sa che è una ripetizione degli altri due c'è un po' un po' che sarà mai un pannetto per struccarci che abbiamo trovato nel primo calendario che abbiamo aperto no questa è la mascherina speriamo di non trovare un'altra mascherina per dormire sono uguali quindi vabbè valutate quale acquistare allora 7 andiamo alla numero 8 che è qua questo sarà lo spacchettamento più veloce che ho mai fatto questa non l'abbiamo trovata è una crema radiance radiance dovrebbe dare luminosità questa ci fate due volte quindi questa top non so se c'era anche prima però visto che comunque dico da trovare in un calendario dell'avvento del doppione non ci sta mai però visto dico meglio trovare due maschere uguali che trovare due pannecchi o comunque due top un'altra anche qua c'era e anche nell'altro io non le uso queste Douglas la numero 10 io andrei a caso adesso perché comunque secondo me ecco è uguale a quello di prima eccolo qua lo smaltino è uguale a quello di prima 10 la numero 11 eccola qua abbiamo trovato una cosa diversa ma utilissima vabbè quando ci faremo la pedicure o metteremo lo smalto nei piedi quest'estate useremo questo 11 la 12 dov'è? la 21 eccola qua la 12 dico alcune cose sono carine tipo la palette mi è piaciuta anche alcuni lip mi sono piaciuti allora questo anche questo è mini size questo è un rosso fuoco è un rosso sempre della linea kiss skin kiss quindi non ci muoviamo da questa linea questo era il 12 andiamo a beccare il 13 o almeno ci proviamo io ci metterò tutte le intenzioni di trovarla molto velocemente in modo da toglierci anche questo un altro elastico per capelli già ne avevamo uno e vabbè è andato a terra va bene 13 andiamo al numero 14 che si nasconde dove? qua vabbè è una batte bomb l'avevamo trovata anche prima 14 adesso la 15 eccola qua raga qua l'avevo già fatto tutto quindi vado ok un'altra crema questa è quella purificante scusate un'altra maschera purificante la potete utilizzare per due volte c'è abbastanza prodotto quindi andiamo alla numero 16 ho dimenticato la numero 11 no la numero 16 eccola qua cioè si capisce dalla forma quello che c'è dentro però facciamo finta di non averlo capito apriamo raga lo specchietto sempre è uguale è uguale a quello di prima identico non è richiudibile ovviamente è sempre lo stesso 16 17 17 non è che vuoi mettere via le cose che non vendi Douglas 17 raga io ho visto il risotto la apro poi lo rompiamo tutto e andiamo allora no un'altra ripetizione no c'è il buffer quello di prima quello mini aspetta quello sopra quello mini mini cioè è uguale ma vi assicuro che questo è il beauty cioè non è uguale a quello di prima quello era il make up però dico mettere le cose uguali no 18 la 16 non l'abbiamo aperta andiamo tutti a caso raga tanto oramai non l'abbiamo aperta 18 poi tanto lo rompiamo tutto e vediamo se manca qualcosa 19 eccola qua facciamo così allora e allora 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 vediamo che cos'è enjoy sempre della linea home spa è una crema per le mani da 30 ml l'abbiamo trovata prima però 19 20 e poi lo rompo tutto per vedere se ci siamo dimenticati di qualche casella che cos'è un'altra penzella no un'altra molletta identica a quella di prima della stessa dimensione che delusione 21 allora intanto andiamo alla 22 la 21 la proveremo tanto non c'è gusto raga non c'è niente di che abbiamo capito che ci sono le stesse cose ecco qua che cosa c'è mi sa che era nella stessa casella di prima abbiamo trovato la famosa il famoso contenitore scusate il famoso contenitore per mettere la crema ma dico due volte boh vabbè 22 23 sicuramente siamo avanti rispetto no un'altra un'altra beauty blender sempre dello stesso colore ammiriamo che comunque hanno diciamo messo tutto in tinta andiamo prima di andare alla 24 che già mi aspetto di trovare quello che c'era prima che vuoi trovare poi lo rompiamo tutto per vedere ecco ci siamo dimenticati di una matita nella numero 21 che non abbiamo aperto c'è la matita suppongo sì è uguale a quella di prima vabbè è una matita in legno normale è una matita occhi e duciso in fondo alla 24 c'è il uguale proprio c'è il mascara in full size questo è il regalo del 24 in full size in tutti e due i calendari allora per evitare di aver dimenticato delle caselle chiuse e poi nel prossimo video dire c'erano altre cose che non ho aperto che non ho visto andiamo a romperlo tutto scusate il rumore eccolo qua c'era una casella che non avevamo aperta che era la numero 17 dove c'era il rossetto identico a quello che abbiamo trovato prima cioè il rosso cioè dico questo calendario qua che è in particolare vediamo un po' è il beauty è una ripetizione tra i due precedenti non c'è dubbio a meno che io non mi sia sognata le cose ma sono tutti qua va bene vi frutto non c'è più niente finish io vi ringrazio vi saluto ciao e vi prego iscrivetevi al canale vi voglio in tanti e attivate la campanellina perché arriveranno anche i calendari quelli belli ciao